A Gabriele Greco diamo una targa sperando che ci ricordi con tanto affetto, solo questo. Per me l'errore Gabriele ci perdoni perché c'è stato un piccolo errore di stampa, risulta il giorno 15 e non il giorno 16, però ci vuoi perdonare. Grazie a tutti per questa manifestazione, io spero mi sia piaciuta. E ovviamente noi ricordiamo, ma lo ricorderà anche il nostro presidente, direttore artistico che per ora è impegnato, che ci sono altre due serate. Il 23 di dicembre avremo Antonella Arancio e il 30 avremo Iscria Menarini. Io spero che vi sia piaciuto, ovviamente ditelo ai vostri conoscenti, ai vostri parenti, che stiamo cercando di portare lo spettacolo nella nostra riviera ionica. Perché lo spettacolo non va soltanto portato al nord, ma l'ha portato al sud, perché abbiamo tanti giovani parenti ed è giusto che si facciano a conoscere. Io vi ringrazio della vostra presenza e del vostro affetto. Apriamo con questa targa, facciamo il foto di rito. Con i palloncini è questa targa. Ok, dalla lui. Carlo lo diamo a Livanni. Sì, anch'io, me lo dò da me. Facciamo un applauso a Gabriele Greco, lo ringraziamo ancora una volta che sei stato qui per noi. Grazie a voi. Ma così ti tornerai a ricordare di noi. Noi siamo al primo piano. Poi si inizia a un bel piano. Quella lì è la parte più... Sì, quella che scoppia proprio. Quella è bellissima. Grazie a tutti. Grazie a tutti